Un grande telo sullo scalone sul quale campeggia il simbolo del Rotary, la ruota dentata e la scritta End Polio Now, esposto nell'atrio di Palazzo di Città a Salerno per sensibilizzare la collettività ad aderire all'iniziativa per sconfiggere definitivamente la poliomilite nel mondo, una malattia non curabile ma prevenibile tramite il vaccino. Anche a Salerno sarà celebrata il 24 ottobre la giornata mondiale della polio, con una serie di appuntamenti con l'obiettivo di raccogliere fondi per il progetto End Polio Now della Rotary Foundation che si occupa di eliminare dal mondo la poliomilite. Per il mese rotariano dedicato all'End Polio Now, la lotta per l'eradicazione del mondo, ogni anno i club Rotary mettono il simbolo di tale progetto nei luoghi più rappresentativi dei propri territori, così come al comune di Salerno. Stamani proprio a Palazzo di Città, nel corso di una conferenza stampa, c'è stata la presentazione delle diverse iniziative che permettono ai medici rotariani in giro per il mondo, in modo unanime ai Rotary, di continuare nel loro impegno nell'acquisto e nella somministrazione dei vaccini. Parteciperanno alla giornata mondiale della polio il Rotary Club Salerno Est, preseduto da Edoardo Ventura, il Rotary Club Salerno preseduto da Rino Bonaventura D'Alessio, il Rotary Club Salerno Duomo preseduto da Edoardo Grimaldi, e il Rotary Club Salerno Picenza preseduto da Raffaele Bresciamorra. Fino all'inizio, allo scoppio della guerra in Libano, i casi accertati erano solo 14 nel mondo, tutti in Afghanistan. Oggi siamo oltre 300, quindi poco più di un mese di guerra ha creato un rallentamento sulle vaccinazioni e inevitabilmente anche e soprattutto un'implosione di quella che è la poliomelite, soprattutto in zone dove i vaccini dipendono quasi esclusivamente dal volontariato. In più, la Fondazione Melania e Bill Gates, che sostengono l'iniziativa dal 1991, hanno deciso che solo per l'area che riguarda Afghanistan e Libano, mentre normalmente per tutte le aree del mondo ogni dollaro versato dai club Rotary loro lo raddoppiano, nel caso di Libano e Afghanistan non lo triplicano. Quindi ogni dollaro che noi versiamo loro ne versano due. In che modo i Rotary della città di Salerno celebreranno la giornata del 24 ottobre? Allora, il 24 ottobre noi la celebriamo con questo evento di oggi e soprattutto con una conferenza che terremo stasera al Circolo Cannottieri organizzata dal Rotary Club Salerno, presieduto da Rino D'Alessio. L'anticipiamo la manifestazione del 24 ad oggi proprio perché stasera abbiamo un importante relatore che ci verrà a parlare dalla Rotary International sull'endopolio e abbiamo deciso di, chiedendo l'autorizzazione al Sindaco, insomma di anticipare di qualche giorno la nostra manifestazione di oggi. Caliamo un telo realizzato da tutti e quattro i club cittadini, abbiamo messo la prima volta nel 2020, che celebra l'endopolio now. Nel 2020 siamo stati accostati come città di Salerno, a Sidney, New York, Francoforte, Berlino e Parigi. perché tutte avevamo illuminato un edificio monumentale della città con la scritta endopolio now.